Ciao a tutti da Cristo TG, il salutatore, grandissimo nuovo evento del 9 gennaio 2015 Sette Colli, premio Sette Colli, ottava edizione che presenta Fabrizio, organizza e presenta insieme a Emanuela di Tocchia la grandissima e bellissima, rinnoviamo sempre, Emanuela di Tocchia, Fabrizio Pacifici Allora, ottava edizione di questo evento, ormai è diventato un cult qui a Roma, l'organizzo a poche ore dal derby, praticamente il derby Roma-Lazzo che è abbastanza sentito qui nella capitale, quindi ci troveremo il 9 gennaio, io, Emanuela Tocchia, Roberto Bruzzo, Ciccio Cordova Antonio Di Carlo, Guido Dubaldo, Emiliano Marsilli, Demet Rampton, Caspar Capparone, Antonio Giuliani, Craig Warwich che è un grande nostro amico, alle garage alle ore 20 e 30, a via degli Stradivari 6, in zona Marconi, io non ho più fiato Veramente straordinario Beh, bellissimo, io c'ero anche l'anno scorso, vabbè, io non sono romanista, già mi sono, perché sono nata a Torino quindi l'anno scorso ero juventina, adesso non sono più manco juventina Proprio, vabbè, diventerà romanista Piano piano, piano piano, non si sa, però bellissimo, perché poi vogliono venire, ci chiamano, vengo anche io, vengo anche io anche se, insomma, siamo tifosi di tutte le squadre in realtà, quindi bellissimo Ed è giusto così, perché la sportività deve essere di tutti quanti, bisogna rispettare tutti, come si dice Ma tutti, tutti no, però noi in questa manifestazione daremo anche un premio a una tifosa laziale d'occhio che sarà per l'occasione Demetra Hampton, in segno di Fair Play Ecco, questa è una bellissima... Cosa posso dire? Prego Però la date a una bellissima, cioè date il premio, combinazione, a una bellissima donna Eh, è facile così fare il Fair Play, eh È un caso, è un caso, è un caso, perciò vi aspettiamo tutti quanti il... Venerdì 9 gennaio, tutte le info su eventiroma.com, grazie Un saluto a tutti quanti, ciao